Siamo sul fiume Sabato, che divide in questo punto la provincia di Benevento dalla nostra. Dopo il ponte si trova Cepaloni, mentre qui a Chianche, con un irpino di 571 abitanti, si sta realizzando una mini centrale idroelettrica, con i lavori che però si estendono per centinaia di metri quadrati. Lavori molto impattanti che stanno smantellando il fiume e distruggendo la zona di verde che prima era qui. Questa centrale nessuno la vuole, perché renderà impossibile la vita a chi gli sta vicino, dato l'impatto acustico. Il sindaco stesso non sa a cosa serve, e sicuramente graverà sulla situazione già molto precaria del nostro fiume Sabato. Sicurati, quello che quando mi gli ho chiesto come mai avete scelto questo come posto in tutta Italia, perché c'è un salto naturale. Non è vero, non è vero, assolutamente, non è un salto naturale. Si lavora notte e giorno per completare i lavori il prima possibile con la sola paura di perdere il finanziamento. Le carte sono tutte a posto, qui manca soltanto una cosa, l'onestà intellettuale e l'amore per il territorio.